Beni confiscati. Siamo felici che proprio nei giorni in cui ricorre la giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, arrivi l'annuncio da parte della Giunta regionale che dopo tre anni torna a finanziare il bando per il riutilizzo dei beni confiscati, destinato ai comuni. Così hanno affermato i consiglieri regionali Domenico Rossi e Diego Sarno rispondendo alle dichiarazioni dell'assessore regionale alla legalità Maurizio Marrone. Per tre anni consecutivi, a partire dal 2019, la Regione Piemonte aveva bloccato i finanziamenti destinati ai comuni attraverso i bandi per il riutilizzo sociale di beni confiscati, nonostante le continue sollecitazioni. Siamo contenti, continuano, ma è giusto ribadire che non si tratta di risorse aggiuntive, ma di un utilizzo posticipato, così spiegano i rappresentanti DEM. Su un tema centrale come quello della legalità e la lotta alla criminalità organizzata, non è il caso di fare propaganda, piuttosto occorre un lavoro serio e costante in consiglio regionale. Ed anche il biellese è coinvolto in questa questione. Vi sono diversi immobili confiscati alle mafie che rimangono tuttora inutilizzati. La nostra provincia è la seconda in Piemonte per valore di proprietà sottratte alla malavita organizzata. La prefettura di Biella, nella persona del prefetto Franca Tancredi, ha annunciato qualche tempo fa di avere più volte tentato di vendere o riutilizzare queste proprietà, che però sono poco appetibili, anche per le amministrazioni, essendo principalmente cascinali dislocati in zone decentrate.